Roma! 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 La prossima canzone che voglio farvi ascoltare L'idea per questa canzone è arrivata dalla poesia di un'autrice brasiliana che si chiama Marta Medellus Marta Medellus esalta la vita in ogni suo secondo perché la vita è la più grande il più grande dono che ci è stato dato e noi abbiamo l'obbligo assolutamente di rappresentarlo al meglio noi e gli altri questa canzone si chiama Per non morire mai dai 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 il cuore lentamente il cammino tra la gente testa in giù non la deve più il cuore lentamente chi rifiuta di ascoltare muove che non si rassura muove chi non ha passione chi per abitudine fa la stessa via chi non ha passione per un primo piove chi si lascia estornere dalla nostalgia cercami cercami dai uomini quelli che ci credono posso perdere ma non finisce mai cercami cercami ti resterò vicino cuore chi non rischia mai per non avere guai pensa e fa disuai cuore lentamente chi ha paura di sentimenti per erudermi così non va più chi sta in fronte al buon oceano e non riesce a vedere all'eternità chi in mezzo ai dubbi non sa scegliere chi non sa più vivere con curiosità chi dice cammini per gli uomini per gli uomini quelli che ci credono posso perdere ma non finisce mai mai tu mi cercami nei partiti tu cercami e mi troverai nel cuore ancora in cento di mattina dove mi vorrai in cento di mattina in cento di mattina per gli uomini per gli uomini quelli che si invidano se vuoi cercami mi riconoscerai e mi riconoscerai se le mani che ha caezza le sguai che si muotano Non voglio di creare che ci sono Non voglio dire mai Non voglio dire mai